Per chi non c'era o ancora non l'avesse notato, gentilmente vorrei che vi facciate un applauso a mister Roberto Francesconi con sol, grazie! Roberto Francesconi! Siamo i primi a cominciare, gli ultimi a finire e quando è finito si ricomincia! Siamo i primi a cominciare, gli ultimi a finito si ricomincia! Siamo i primi a cominciare, gli ultimi a finito si ricomincia! Siamo i primi a cominciare, gli ultimi a finito si ricomincia! ci siamo c'è nessuno che grida ci siamo non c'è nessuno che hanno servito e nessuno che penso e nessuno che a tutti la storia è una strada lu ma li male c'è nessuno che vuole salutare macchina veloce ebbene sì ci siamo riusciti l'abbiamo arrivato all'inaugurazione dell'Avia attenzione formazione d'attacco e tu non ci credi ogni promessa è dedico c'è nessuno che batte almeno una mano non ci credi non ci credi Grazie a tutti. 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 Suona a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 la... la... a tutti. 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 a tutti.